Andiamo, andiamo, andiamo. Obiettivi 80, due più danno io. A giocatore 81 o più. Sarà almeno un 84 walkout? Manca da mesciare però, scusa. Che schifo. Doppione non scambiabile. Dai. Sì, ma uno c'ha 10 d'agilità, l'altro c'ha 86. Va beh, è gratis per due mesi. Devi trovarlo tra le carte della World Cup. Sì, vabbè, regà, ma se c'è 81 o più, c'è una grepa. Cioè, l'altra volta comunque dicevi sì, vabbè, vabbè, se l'ho bella risata così. Guarda che roba. Beh, beh, campioni, sì. Liberi c'ha una bomba. Ma quanti cazzo ne ha fatti? 5. Ah. Giuro un mese. Non è vero, questo può durare un po' di più. Ciao, Baldo, sei bello. Oh, chi è? Buono il primo. È il toro. Dai, è apprezzato bene. Ma quanto volete? Voi devono regalare. 4,90. C'è stanno i pacchi di swap. C'è stanno i pick. C'è stanno i premi di tutto. Eh, ma che stanno a mettere gli incontri e le cose. Che devono fare? Vi regalano. Su Next è sto ribericcio a C. Sì, la voglia. Armani che famo? Tiramo su. Yes. Francesco a TT e mi esce. Griezmann. Neo riberie. Riberie è da provare. Domani suo famo è sul principale. Vediamo che ci sta di bello. Lo proviamo nei swap, capirei, per quello che conta. Eldor Shomurudov. Lo tiriamo su pure lui. No, è 5-5 riberie. Secondo me è più agile nei marpro. Sì, si puzzano un pochettino. Il work rate è pure buono perché gli hanno fatto alto medio e gli hanno cambiato. Quella era la paura mia più grossa, era il work rate. Il problema è l'incallo un pochettino. Cioè, o metti serie A o niente. Oh, Savic, 87. Capirei, sta 20 metri. Un po' gli if ti tirano ca' la fionda se continuano così. Tu hai salito io? Vabbè, ce l'ho. N'è bene, il 4-5-1 li metti insieme e sta una decidenzese. Vai, proviamo a fare pacchetto al giocatore di Moff the Week. Vediamo che esce di bello. Quello, quel riberie come lo vedi? Eh, sembra bello. Onesto, work rate buono, prezzo ci sta. Ma poi quanto dura riberie la sfida col fatto che è in fine di un'era? Fammi vedere. Riberie dura, 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 dura. 13 giorni. Comunque c'è pure il tempo che piatta un po' di non scambiabili altre robe. Per te auto-position non può fare nulla. Porello. Ah, la ho drop. Eh, Yoshimizu 93. Po' fallasa con Brantorio, con Ancora, però... Con Guardiano, quello che te fa... Con Bersani, almeno è un walk out. Becca va. Com'è sto riberie? Sembra buono. Boh, domani lo provamo. Domani se lo famo andammo a provare. E poi vedemmo che esce fuori. Se è buono, dai. Se non è buono, cazzo. Vabbè, comunque è tornato... È tornato in vita. Sono contento per lui. Basta che... Vabbè, cliccate come al solito. Keycard, FIFA Points, Steam, PlayStation Plus, Abel Tollo, che ve lo sapete tutti i giorni. Voi dico ciao. Ma io mi devo fare la borsa per carcetto. Cacchepo, 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 cacchepo. Agri, grazie Petri, bentornato. Ma magari vi stacchi uscite, casette tirano sotto. SBC Bella. Riberi punta con Nei. Sì, su World, perché su Next te te menano se giochi così. Il Sarlotte caricava lento, caricava. Io la volevo a scala e prova a spegnela. Ma vedi pure se magari se sta a surriscaldare. Cacabèbi a tt per me. Con te, pistacchione, te entro a martello, godo. Hai trent'anni, io. Per bracciola si chiama Simone? No. Tutto convinto, vedi? No, non si chiama Simone. Vlasic, cazzo c'è fai con Vlasic, a birra. Ma l'ha detto, vai io a ver? No. Ma sì, ma tu non devi rimanere a sui messaggi, non me lo devi riscrivere. Apriamo prima Team of the Week, ma. Ci pensi che sto a quattro anni che ti diamo nel trent'anno e ormai davvero trent'anni. E pensa che pure te a sto punto a forza età me li ci arrivi pure te. Eh. E lui basta che fai tip-top e accontento. Io sono da vendere gli 84 adesso. Io ho Cannoniera Ribery. Ma io ho pure Cacciatore Gliadri a Ribery, guarda un po'. Tanto per gradire. E vabbè, tra nove mesi. Potrebbe essere anche padre. Auguri. Auguroni da. Turamme. Che buono, Turamme. Auguri io. Yeah. A me a te, grazie per i quattro. E bentornato. Pistacchione, pistacchione. Eh, Campbell è un bel coglione, sì. Ma conviene comprarlo a Van Dijk ora. Costa sempre uguale a Van Dijk, è l'unico che ne ha calato. Uh, Kai Avers. Ma andate bene con Van Persie? Sì, secondo me sì. È buono, a me piace. Carino il gioco. Buono, i C30K di If. E il Kai Aversie. Che sanno poi... Chi ce sa? Fammi pensare. Quei è Fofana. Fofana If pure è forte, forte. Oh. Vada. Oddio. Play A. Non so quale di questi. Boh, di Fionna 2, Fionno sicuramente a BD Pelè chiesa. Hmm. Gavio PS4 meglio di bala speciale o Ronaldo base. Hmm. Ronaldo comunque c'è sta. Anche se è di bala comunque è più... Oh, Chris Molling. Ma chi è stato è l'Inter? Dici fa come... Giego e Miki. E Kolarov. Ormai Franchino... È andato, è andato. Gli piace proprio. Ah no, quello so io. Big America in pizza. Quella mi piace a me. Eh 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 eh. Ma ha mangiato una cifra. Tu Ramme. Buona Big America in pizza. T'ho schippato, bro. Andiamo a Storiberi. Bello. Sto facendo domani. Mi piace. Finalmente in SBC in giudice dico cazzo me lo faccio. Speravo Barella. Invece Buonaventura. Riberi più forte di Nei Base. Potrei... A tiro penso che sì. A girita non penso. Però è da vedere un attimo quello che... Che esce... Che esce fuori. Mmm. Milinkovic. Meh. Beh, di sì, i riberi dell'anno scorso lo regalavano però. Davo a 30k o viavi. Questo costa mezzo milione, scusa. No, pensavo... Addio che ne è male. Però pensavo domori. Io nel partito ci stasano da più la pizza. E vabbè, non ti preoccupa, ma non è un problema. Io tra poco, regà, stacco che c'ho un calciotto... Un calciotto che mi aspetta. Vado a fare... Oh, ciao! No, eh. No, è marietto. No, da qua che pinna che c'ho. Ti è. I street sharks. Seconda icon. Zola. Nella terza. Vicario Mi sento un po' attappato Ma non attappato Però un po' Questo è walkout Italia, attt Ciro immobile, 87 Meglio ribriogo un nuovo Tocca provarlo Tocca assolutamente provarlo Quel fantastico Ribri Domani lo proveremo C'è Ciboni Quanti ne vuoi? Pure Messi Ne marra Presi proprio così Quei ribri in nuovo Pedri Ma Pedri sta un po' Più su rispetto Che ne sono 80 safe Normale Te dico So giù Come sei giù Filo Ma è un po' presto L'ho detto ai 20 E questo è un po'